le meraviglie della natura invinate cosa c'è qui e qua sono guai 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 qui praticamente ci si trova un acquedotto cazzo per il mezzogiorno vedete eccolo qui eppure c'è e come mai il cammo non ne ripulisce ecco qui il tombino si vabbè ma dopo vi raccontino la storia e questo è un fabbricato da demolire questioni di tempo ma questo sarà necessariamente demolito cause cause le cause sono finite il ricercimento milioni di euro agli eredi divino a vedere da la scelta da l'un、 da la scelta type la scelta il ricercimento che la scelta Grazie.